Ciao, sono Landry Banner della serie Best Friends Whenever. Oggi vorrei dirvi le mie 5 destinazioni preferite dei viaggi nel tempo. Numero 1, gli anni 60. Numero 2, andare negli anni 20. Numero 3, adoro gli anni 50. Numero 4, tornare all'asilo. E numero 5, andare 20 anni nel futuro. Ora tocca a voi. Allora, quali sono le vostre 5 destinazioni preferite? Andate sul sito disneychannel.it, lasciate un commento e non perdetevi Best Friends Whenever a Disney Channel.